Ma serve però anche che ci siano delle regole per la convivenza civile, perché se non ci sono le regole scatta l'anarchia e quindi vince il più forte. E quindi anche l'immigrazione deve essere regolata, perché altrimenti... Nel suo caso legalizzarlo ha prodotto valore per tutti, no? Chiaramente, ma sarebbe stato dal mio punto di vista ancora migliore, se come tanti anche migranti italiani, non tutti, permetta un attimo, fosse venuto direttamente regolare sul nostro territorio. Perché purtroppo, sicuramente nel momento in cui lui è entrato e dal momento in cui è arrivato a essere un regolare, la possibilità di finire o sfruttato o nella criminalità è molto ampia. E io sono convinto che gran parte di quella immigrazione irregolare che abbiamo in questo momento sia anche favorita, e lo sappiamo, il caso di mafia capitale è abbastanza lampante, da comunque persone prive di scrupoli che guadagnano un sacco di soldi nei confronti della tratta degli esseri umani. Si fanno più soldi con gli immigrati e con la droga. Lo sappiamo benissimo, ed è per questo che noi dobbiamo fermare il flusso di immigrazione clandestina. Adesso ho visto che il governo sembra faccia dei campi, addirittura in Libia, sembrava che non si potessero fare fino a qualche mese fa, ma è questa la cosa fondamentale. Perché se ci sono dei rifugiati da aiutare, soprattutto donne e bambini, ben vengano, li aiutiamo, ma dobbiamo sapere che sono effettivamente rifugiati e soprattutto che sono in estrema difficoltà e che scappino veramente da una guerra. Purtroppo quello che sta succedendo in questo momento a me sembra che sia che qualcuno ci guadagna parecchi soldi e quindi continua questo flusso. Io penso che se non ci fossero le persone che guadagnano così tanto, questo flusso non ci sarebbe. E ribadisco, è per la tutela delle persone per bene che vogliono venire a lavorare e che deve essere regolare l'immigrazione.